Grazie 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 Due fuochi in là C'è il dito, fuochi e il fuoco Sono due fuochi totale Massimo! Scusi, Massimo Massimo scusi, hai preso la marchiglietta della funghi? No, io ho preso la marchiglietta del buco Allora c'è la roba tutta Preta! Preta! Sono cinque che hanno meno dato Buon appetito Per il cassino La margherita ma non per il cassino Per il cassino Questa è la 46 Buonasera 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 Grazie. Ma dove è? Ma quel tavolo d'olto come stai messo? Eh, dove? Quale il tavolo d'olto come stai messo? Eh, un po' calcio. Adatto, manca un uomo. Non tocca a te, ma no. No, no, faccio quant'altro accetto. Io metti sotto. Vedi? Metti sotto. Questa vuole. Mi ordine il tuo fogante, è il tuo fogante. Tocca la droga, Mi sfogate il tuo fogo. Vai, vai. No, 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 no. Che è una mani. Allora, il staff curo da come stai messo. il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie, prego. Grazie. 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 Vai ragazzi, pizza al volo. Ragazzi, devo caccia al volo per 49.01. Grazie. Fitto a posto, ragazzi. Fitto a posto, vai. Gli di ferro. Bene, bene. E poi c'è la copomba lì. E guarda, guarda. E' tutto scoppiato. Buono. Domenico! E' tutto scoppiato. E' tutto scoppiato. Grazie. Grazie.